La Polizia di Gela ha posto sotto sequestro due fucili, una pistola e ha ritirato con un provvedimento amministrativo altre armi. Gli agenti, in seguito alla consuetazione di controllo del territorio, hanno ritirato amministrativamente 15 fucili e sequestrato penalmente due fucili e una pistola. Dopo l'incremento dei fenomeni delittuosi consumatosi a Gela a fine ottobre, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui possessori di armi al fine di verificarne la corretta detenzione secondo i requisiti richiesti dalla legge. Nel corso della predetta attività, la Polizia amministrativa ha ritirato 15 fucili con relative munizioni a persone che non possedevano più requisiti di legge necessari per la detenzione. È stato inoltre richiesto al Prefetto un provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi nei confronti di dieci soggetti che potrebbero abusarne. La Polizia giudiziaria ha sequestrato anche due fucili e una pistola con relative munizioni, con denuncia alla Procura della Repubblica di Gela delle persone che detenevano le armi illegalmente. Sono state rigettate infine aventi richieste di porto di fucile o di rinnovo presentate all'autorità di pubblica sicurezza e formulato un parere negativo su quattro richieste di porto di pistola inoltrata al Prefetto, poiché anche in questo caso i richiedenti non possedevano tutti i requisiti di legge necessari per ottenere il porto d'armi.